allora questo è il video definitivo che spiegherà come funziona e com'è il bagno giapponese ecco qui tutti i bottoni per fortuna questo c'è anche l'inglese ok questo primo bottone spingo questo guarda che succede vedete questi sono tutti prima quello per aprire ok quindi adesso è aperto e rispingendo le donne spingendo ovviamente ok poi c'è ovviamente flash quello per scaricare poi ogni volta che ci si siede la tavoletta è riscaldata e poi c'è bella et flash eco flash quello ovviamente dipende questo oscillate dipende invece per il bidet per il bidet quindi presente c'è il ria ria soft front per le donne la pressione e la posizione dello schizzetto questo sta disinfettando il bagno ogni volta scese siede lui disinfetta allora vai front front riesce la cosetta attento e comincia a schizzare poi potete cambiare anche la pressione e la posizione e poi potete anche oscillare e così vesci acqua proprio alla grande la grandissima e poi spingete stop proprio l'altro questo è molto semplice cambia solamente la posizione del diverso tipo di schizzetto vedi dietro questo se avete fatto una cosa grossa ecco vedi più 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 preciso 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 stop e poi scarica da solo appena avanzate che volevi dire è che quello uno dei più moderni no si aspetta guarda dovrebbe essere carica da solo e poi lasciata una portare la modifica beh chiudiamo ah no questo è per alzare sbagliato e poi chiudi donne e poi si chiude da solo come arrivederci bagno ciao ciao ci mancherai ragazzi iscrivetevi al canale e metteteci mi piace commentateci questo video e tutti gli altri e poi seguiteci anche sui social vi metteremo tutte le informazioni del nostro viaggio qui sotto nei commenti e ciao